è arrivata una nuova band sul mercato si chiama oppo band e oggi la proviamo nella nostra recensione completa se non volete perdervi altri video di wearable di smart band di smartwatch come questo potete ovviamente come sempre iscrivervi al nostro canale se non l'avete mai fatto e attivare la campanella delle notifiche non perdiamoci in altre parole e scopriamo oppo band ed eccoci qua quindi con oppo band se la guardiamo fa un po impressione si sembra diciamola chiaramente sembra un po una mi band ma è comunque una band come altro dovrebbe sembrare all'interno della confezione oltre al bracciale c'è questo che è l'adattatore per la ricarica quindi con porta usb ve la faccio vedere eccola qua e con questo accessorio per la ricarica allora questo è il bracciale al mio polso e adesso vado a levarmelo devo dire che il sistema di ricarica non è proprio il massimo perché comunque va sganciato da questo bracciale e poi inserito qua dentro devo dire non è proprio la soluzione migliore che mi sarei aspettato il cinturino è molto semplice cinturino in gomma ma c'è anche una versione più costosa mi pare si chiami design non mi ricordo ma style credo e questo devo dire che è comunque insomma il prodotto che vi aspettereste pagare meno per avere un cinturino comunque ok il bracciale anzi non il bracciale ma la nostra band supporta 5 atmosfere è 5 atmosfere certificata per 5 atmosfere quindi può essere portata sott'acqua qui vado a cancellare le notifiche è spessa 11,45 mm e pesa solo 10 grammi è la classica band che al polso al polso beh ve la dimenticherete il display è un 1.1 pollici di diagonale e tra l'altro curiosa questa cosa che potete scorrere così lateralmente per cambiare tutti i vari quadranti una soluzione un po' particolare 1.1 amoled con risoluzione 126 x 294 pixel la luminosità purtroppo è manuale ma devo essere sincero l'ho impostato devo essere sincero l'ho impostato così com'è e sinceramente mi sono trovato bene l'unica considerazione che voglio fare subito è che vedete c'è il simbolino della luna con una A è veramente molto piccolo vuol dire che ho messo la modalità non disturbare automatica ecco lui rileva in automatico quando state dormendo e va in modalità non disturbare il non disturbare non si sincronizza con lo smartphone per esempio adesso lo smartphone è il non disturbare ma le notifiche qui arrivano comunque deve accorgersi che vi siete addormentati non è proprio la soluzione perfetta perché comunque finché non vi siete addormentati magari vi state per addormentare e lui voi ruotate il polso si accende lo schermo e vi risvegliate però insomma è comunque secondo me la soluzione migliore rispetto a quella di impostare un orario magari la domenica avete voluto dormire di più e lui si accende se no la mattina presto dal punto di vista hardware non ho molto altro da dirvi qua sotto c'è ovviamente il sensore di battito cardiaco e il sensore per l'ossigenazione del sangue e andiamo quindi un pochino a scoprire come è fatto il software che diciamocelo è molto semplice intanto io ho attivato la riattivazione dello schermo con il movimento del polso che di default è disattivato non so bene perché e funziona che scorrendo verso l'alto abbiamo tutte le varie funzioni la prima è l'attività giornaliera con queste bande di oppo colorate che si riempiono in base a tutti i progressi che fate per calorie, passi, durata allenamento e ore in attività abbiamo poi gli sport che sono 13 ve li faccio vedere un po' così così vedete se per caso c'è o meno quello che vi serve avete visto che c'è il nuoto in piscina perché ovviamente è uno smartphone impermeabile e ha anche quel valore lì vi faccio vedere giusto un attimo come sarebbe l'interfaccia il gps ovviamente va a fare il fix ma lo va a fare dallo smartphone e poi premiamo il play, il gps non è collegato quindi lui ci dice di aspettare perché non abbiamo ancora il gps attivo queste sono le informazioni che vedrete quindi orario, che ore sono ora durata, distanza, battito cardiaco, zona cardio, calorie, ritmo e frequenza dei passi allora devo dire che comunque non mostra tantissimi dati e anche nel report finale non è che ci siano poi così tanti dati registrati va bene per un'attività sporadica se siete dei veri sportivi sono abbastanza convinto che non siete qui comunque nel nostro pubblico dubito che questo, o almeno non lo comprerete per quello frequenza cardiaca misurata in modo estemporaneo ma c'è anche l'impostazione che io ho tenuto attiva che serve in sostanza per andare eh vabbè niente scusate per andare ad avere il battito cardiaco sempre attivo tutto il giorno eh la registrazione dell'ossigenazione del sangue che devo dire è precisa ma anche il battito devo dire che è preciso quando si fa attività il battito come sempre con questi prodotti non è un fulmine ad aggiornarsi se avete aumentato il ritmo o l'avete diminuito ma comunque una volta che lo fa poi è preciso preciso anche l'ossigenazione del sangue di notte viene registrato in automatico ovviamente di giorno no perché come sappiamo bisogna che il polso rimanga rimanga fermo un po' a lungo eh tracciamento del sonno e qui potete vedere anche le ultime informazioni sull'ultima notte di sono dormita qualche lag esercizi di respirazione meteo e negli strumenti ancora qualche app il controllo musicale il cronometro il timer la sveglia eh la possibilità di utilizzare questo questa band come trigger per scattare foto sullo smartphone e trova il mio smartphone infine nelle impostazioni quella era una notifica va bene poi ve le faccio rivedere eh impostazioni sul non disturbare sulla luminosità che vi ho detto appunto essere solo manuale l'ho tenuta al 40% eh visualizza il tempo è semplicemente quanto lo schermo rimane acceso ad ogni iterazione magari ve lo avvicino un po' ok ok riusciamo riusciamo eccolo qua intensità della vibrazione e poi per ripristinare l'ultima voce l'ultima voce è quella delle notifiche notifiche che come potete immaginare eh sono molto semplici quindi icona dell'app che ha generato la notifica quando il testo è poco altro quindi in sostanza potete consultare al volo le notifiche non pensate ovviamente di farci molto di più ma dubito che avevate che aveste pensato di poterci fare chissà che cosa e adesso ecco l'altra notifica vibrazione devo dire è una dei valori più bassi e comunque si sente si sente ancora bene e adesso però per mostrarvi tutto quello che può fare davvero questa band andiamo a vedere l'applicazione sullo smartphone eccoci qua quindi a vedere l'applicazione che si chiama HeyTap che secondo me non è proprio il nome migliore che potrebbe essere ad un'applicazione non perché sia un brutto nome ma perché non si collega secondo me chiaramente al prodotto al suo funzionamento va bene questa è comunque l'interfaccia che è molto pulita molto chiara migliorata moltissimo l'avevo provata la prima volta circa un anno e mezzo fa ed era molto lontana da questo riepilogo dei passi per giorno per settimana e poi abbiamo sotto tutte le altre voci quindi i chilometri vabbè qui si riaprono sempre i passi in realtà e sotto abbiamo la frequenza cardiaca che devo dire come vi ho detto è veramente precisa con anche il dato a riposo andiamo in una giornata ecco per esempio ieri devo dire essere veramente mi ha stupito mi ha stupito sulla precisione basta veramente rimanere qualche minuto in più in una zona cardiaca diversa ecco per esempio adesso vedete ha rilevato che mi sto un po' agitando per fare queste recensioni ed è appunto devo dire una buona valutazione una buona precisione tracciamento del sonno anche questo mi ha stupito per la sua precisione l'unica cosa è che può succedere che magari si rimanga un po' a letto molto fermi ma non si riesca davvero a prendere sonno ecco ci sta che lui comunque vada a registrare quella notte come se fosse quel momento come se fosse del sonno veramente dormito ma non succede molto spesso non succede in modo troppo preponderante ho solo notato che può un po' succedere questa è l'ossigenazione del sangue ovviamente registrata durante la notte e poi abbiamo la registrazione degli allenamenti ve ne faccio vedere uno indoor con qualche dato mostrato in più se siete all'esterno vi mostra anche la traccia del gps ma lo fa comunque in questa parte di mappa qua sopra che non è proprio particolarmente utile ecco i dati registrati sono precisi ma non è che ne vengono registrati così tanti o comunque non è che ci sia chissà quale reportistica tanti tanti quadranti questi cinque sono quelli che ho installato se andiamo su modifica ne potete per esempio cancellare uno e se andiamo su scopri ce ne sono tantissimi altri salute arte gioia addirittura semplice e classici potete scegliere fra questi e installarli oppure andare a scegliere uno di questi tre e andare a sostituire quest'immagine delle bolle colorate con una vostra foto quindi potete caricare una vostra foto come quadrante infine ultime opzioni se andiamo su altro potete scegliere quali notifiche far arrivare sullo smartphone quindi io ho abilitato queste per esempio potete impostare da qui le vostre sveglie potete impostare tutti i vostri i vostri target le vostre impostazioni per quanto riguarda l'allenamento e la salute in preferenza potete dirgli appunto ci sono varie impostazioni che poi non potreste altrimenti gestire voi direttamente dalla band l'unica altra cosa che mi sento di aggiungere è che si si possono sincronizzare i dati con google fit ma in realtà non lo fa se io adesso premo collega ora non lo faccio solo per una questione di privacy perché poi si vede il mio account almeno nel mio caso continua a darmi errori quindi teoricamente è presente la sincronizzazione con fit nei fatti nel mio caso non ha funzionato e siamo quindi quasi arrivati alle conclusioni per oppo band una smart band non ho parlato dell'autonomia sono 100 mAh di batteria per un'autonomia di circa 6-7 giorni per il mio utilizzo non avendo il gps non dipende estremamente da come lo utilizzate però tenete conto che io comunque ho sempre tenuto attiva l'ossigenazione di notte il battito cardiaco 24 ore su 24 e anche la riaccensione del display con il polso quindi sostanzialmente la casistica peggiore ed oggettivamente dura appunto circa 6-7 giorni il prezzo di questo prodotto è di 49 euro che è allineato al mercato e questo forse gli fa bene fino a un certo punto nel senso che forse ci sarebbe stato bisogno di un prezzo ancora più aggressivo in un mercato abbastanza già saturo di prodotti ma sono abbastanza convinto questa è una convinzione mia non ho nessuna parola da parte di Oppo che la vedremo probabilmente scontata magari in bundle con altri prodotti insomma Oppo Band avrà modo di farsi apprezzare pur non avendo magari quella killer feature che qualcuno avrebbe potuto aspettarsi in un mercato già molto pieno di alternative grazie per averci seguito se volete supportarci potete farlo iscrivendovi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche un saluto da Emanuele Cisotti per Smartworld.it Grazie per aver guardato il nostro canale